Posso battere Ladybug? Lo so! Ci deve essere il momento perfetto! C'è un altro modo per usare il Miraculous del coniglio. Tornare indietro a quando Emily usò il Miraculous del pavone danneggiato. Può salvare sua moglie, Gabrielle. Questa contiene le informazioni su come riparare il gioiello magico, così che Emily non sia male usandolo. Deve solo armarsi di un gran coraggio e... fare la scelta giusta. Non è troppo tardi. Ma come ho fatto a non pensarci? Grazie, Nathalie. Nuru, Fluff, Bark, tripla metamorfosi! Sei sicura di essere pronta? Sì. Emily! Ladybug, cerchi di ingannarmi un'altra volta! Ho già visto questa scatola prima? No, no, non è lei. Sì, sì, ricordo. So quando è successo. È un segno, falena oscura. Non ti lascerò distruggere il mio futuro, Ladybug! Torno subito, amore mio. Te lo prometto. No. 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 Grazie a tutti.